Sabato 22 novembre dalle 15 al teatro del Circolo Fratellanza di Casnigo il seminario Il Volontariato per il Bene Comune. Qual è il percorso che vi ha portato a questo appuntamento? La proposta ci è stata fatta nella primavera dell'anno scorso dal Circolo Provinciale delle Acli riguardava appunto la possibilità e la voglia di ragionare sul bene comune. La proposta è stata fatta a tutti i gruppi del paese di Casnigo, alcuni hanno risposto addirittura investendo in prima persona e in pianta stabile quattro gruppi in effetti fanno parte di questo gruppo allargato che abbiamo chiamato Bene Comune l'oratorio, l'amministrazione comunale, il Circolo Acli che ha poi fatto la proposta il gruppo Ideado che è un gruppo che a Casnigo si occupa di organizzare eventi culturali di vario genere ma che al di là di questi eventi culturali cura in modo particolare i legami tra i gruppi e tiene in modo particolare alle collaborazioni, alle reti per così dire. Altri gruppi hanno poi dato disponibilità più flessibili a seconda della loro appunto disponibilità. Il ragionare sul bene comune già di per sé significava avere in mente un progetto di comunità, un progetto di rete si trattava di cercare di identificare temi che trasversalmente saltassero fuori un po' come interesse di tutte le associazioni anche solo l'identificazione di questo tema ha rappresentato per noi un lavoro che è durato alcuni mesi alla fine la necessità fondamentale che abbiamo poi rilevato per identificare un bene comune in senso proprio trasversale abbiamo appunto, ci siamo resi conto che era fondamentale sondare il territorio Sondare il territorio significava capire che cosa fanno, che cosa vogliono le associazioni Siamo stati sostenuti in questo percorso da un educatore di comunità, Corrado Maffioletti che ci è stato affiancato dalle ACLI di Bergamo e abbiamo sortito appunto questo progetto di intervista rispetto ai gruppi Come sono state realizzate queste interviste? Dunque, il lavoro di intervista è cominciato nel dicembre scorso ed è nato soprattutto dall'aspetto fondamentale di sentire quello che le associazioni del territorio hanno da raccontarci questo perché ricercando noi il bene comune era fondamentale capire quello che le associazioni pensano del bene comune e come viene visto il bene comune sul nostro territorio Abbiamo quindi sondato il territorio Sul territorio ci sono circa 42 associazioni, noi ne abbiamo intervistate quasi tutte e le interviste erano svolte in una maniera abbastanza particolare e noi nel gruppo consideravamo il questionario un metodo di ricerca poco efficace per quello che volevamo fare Infatti rispondendo semplicemente a una domanda o a un questionario non si riesce a cogliere quello che dietro veramente c'è a quello che le persone hanno da raccontare oppure anche da non raccontare quindi semplicemente i movimenti, i gesti, le parole o comunque il tono con cui parlano con noi Una volta svolte tutte le interviste le abbiamo unite in un unico documento cercando quelli che sono gli aspetti trasversali che tutte le associazioni ci hanno rivelato e abbiamo trovato due particolari aspetti su cui noi ci stiamo focalizzando anche in relazione al convegno e sono la gratuità e quindi il fatto che la maggior parte delle associazioni, tutte le associazioni intervistate sono composte da volontari che quindi donano il loro tempo per quello che fanno e il secondo aspetto fondamentale invece è il rapporto con i giovani e risulta chiaro da tutti gli intervistati che c'è una certa difficoltà nel far capire ai giovani quanto è importante il tema del volontariato e quindi cercare di tirarli all'interno di un gruppo o un altro in base anche alle loro caratteristiche, alle loro peculiarità Qual è l'obiettivo del seminario di sabato? Consideriamo il seminario, lo vogliamo proprio considerare come un punto di partenza in parte un punto d'arrivo per quanto riguarda appunto la restituzione delle interviste e questa proposta di analisi sociologica e demografica ma sicuramente un punto di partenza perché qui noi ci giochiamo la collaborazione con gli altri gruppi vogliamo capire chi ne ha l'interesse vogliamo arrivare a davvero stendere questo progetto di comunità in base agli interessi dell'associazione